Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, traffico intenso per incidente già risolto tra Valdichiana e Arezzo. Disagi anche in direzione opposta per Curiosi. Segnalato traffico rallentato tra Firenze in Pluneta e il bivio A1 variante. In direzione Roma, corre a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Chiuso per la vola in entrambe le direzioni fino al 12 agosto il tratto della variante di Certaldo della strada regionale 429 tra il km 12 e il km 17. La strada collega Certaldo, San Gimignano e Gambassi Terme. A Firenze è stata chiusa per incidente in via di Camerata a Fiesole. Traffico rallentato e deviazioni segnalate in loco. In via Bronzino, angolo via Giovanni della Casa, restringimento di carreggiata per incidente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!